Allora dai 15 minuti. Ma che lo rifaccio? No. Eh allora tattacchi. Allora lo portiamo? Posso cantare una canzone? Mi preparo un testo. Ma che cosa sei un canzoniere? Allora effettivamente c'è da dire che le canzoni di Piadina sono efficaci. Tipo quella lì come era? Eh sono un trattore. Sono un trattore e non sono l'impostore come era? Sono una bambina. No come è? No no. Sono un piadina, non sono una bambina, guido il trattore e raga non sono l'impostore. Vedi sono efficaci quindi io la vorrei sentire un'altra canzone. Va bene allora prepara una canzone per essere liberato dai. Va bene mi rimango qui? Sì sì puoi rimanere. Va bene. A me non possiamo sentire sta canzone. Fai la canzone. Sono Hot Piadina e mi han chiuso giù in cantina. Sto qua per ammuffire vorrei tanto uscire. E allora amici tiratevi fuori wow. No. L'ultima frase non c'è stata. Era terribile. L'ultima rima almeno. Se facevi l'ultima rima eravamo convinti. Era perfetto. La modificherò a tuo piacere. Vabbè chat lo possiamo mandare a tirare rapidi.